Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. ho la come va ho ha fatto individual come se ha detto una masturbazione ponele quindi le pongo Macri e oggi è Malvinas e la bandera gli uienti sempre a qua non? hace un anno che non è stata la bandera hace un anno o ma un anno e due messe dalle si uite se dieron cuenta tal vez bueno non le dieron bola però la gente non, però la gente che viaja per l'Oeste si desespera, guarda a esa mujer che sta da espalda, a parte del problema del marido, tiene il problema di che non sta la bandera e lei vuole vedere la bandera come i orientali perché i orientali hanno la mia sangria che noi o descendienti orientali perché non? la sangria è un mar inmenso che va in tutte le playa a me non mi importa tanto la bandera perfetto, por eso te voy a hablar de la sangria, que es la misma para todos aunque parezcamos diferentes negros, blancos, chinos, lo que fuera dice la sangria escucha, exactamente muy bien, seres humanos la sangria è un mar inmenso escuchen chicos un segundo un segundo, escuchen porque quiero que la piensen después no, porque yo pensé que ustedes eran sexópatas pensé que eran sexópatas y todos los pibes con arito y todos son sexópatas son terribles son lo peor que hay son ustedes no? o no? no ve que tiene arito no sé vaya amor boludo bueno ahí mira la señora señora no hay bandera no hay bandera Malvinas es hoy se acuera